Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di distribuzione gaussiana e campionamento, quindi andremo a vedere altri piccoli elementi di statistica. La distribuzione gaussiana si può anche chiamare normale. Questa è una distribuzione simmetrica che si rappresenta graficamente con una curva a forma di campana, ovvero avremo una forma di questo genere. Sull'asse delle y vado a mettere la frequenza, mentre sull'asse delle x vado a mettere proprio i valori. Avrò una curva, come avevo detto, a forma di campana che avrà un andamento di questo tipo. Come in tutte le distribuzioni simmetriche di questo tipo, si ha la coincidenza fra la media, la mediana e la moda. Ma nella distribuzione gaussiana non saranno tanto importanti queste tre cose, quindi questi tre elementi, quanto la deviazione standard. La deviazione standard io già ve ne avevo parlato in un altro video che, se non avete visto, io vi lascio il link qua sopra. Il valore della deviazione standard nella distribuzione gaussiana dipende da come si distribuiscono le frequenze intorno alla media. Ovvero, se abbiamo una curva molto stretta, indicherà che vi sarà un valore di picco della variazione standard. Se invece, ovviamente, abbiamo una curva molto larga, allora non avremo tale valore di picco. Inoltre, sappiamo che, aggiungendo e sottraendo alla media la deviazione standard, che però deve essere moltiplicata per un numero opportuno, si otterranno intervalli che conterranno una determinata percentuale delle frequenze. Ovvero, se noi prendiamo in considerazione il nostro esempio, quindi il nostro grafico, possiamo vedere che il valore di picco rappresenterà proprio m, ovvero la media. Invece, i valori a sinistra della media saranno appunto quelli dove vi andiamo a sottrarre la deviazione standard, quindi m-sigma oppure m-2sigma, perché, come vi avevo detto, la deviazione standard deve essere anche moltiplicata per un numero opportuno, mentre a destra, ovvero, ad esempio, m-sigma sarà questo valore, m-2sigma questo e così via. A destra, invece, ci saranno quei valori dove andremo a sommare alla media la deviazione standard, quindi m-sigma oppure m-2sigma e così via, dove appunto saranno questi altri valori. Molti fenomeni, seppure non sono caratterizzati da distribuzioni simmetriche, molto spesso vengono comunque rappresentati tramite distribuzioni gaussiane, anche perché questo lo possiamo vedere facilmente, perché aumentando il numero delle rilevazioni possiamo vedere che anche una distribuzione non simmetrica tenderà ad avvicinarsi a una distribuzione normale o una gaussiana, come nel nostro caso. Quindi dipenderà ovviamente dal numero di rilevazioni che stiamo facendo. Quindi, visto la distribuzione gaussiana, un'altra cosa di cui vi voglio parlare è l'errore standard e l'intervallo di confidenza della media. Allora, questo lo possiamo vedere che se da un'intera popolazione estraiamo tutti i possibili dei campioni e ne calcoliamo le medie, possiamo vedere che tali medie dei campioni si possono avvicinare a una distribuzione gaussiana, mentre la media appunto di questa distribuzione gaussiana sarà proprio la media della popolazione che abbiamo preso in considerazione. La media di un campione si indica con questo simbolo sopra appunto alla x e mi indica una stima corretta della media m della popolazione. Quindi la media m è una stima della media della popolazione. però trattandosi appunto di una stima sicuramente esisterà appunto un errore che viene chiamato errore standard. Questo lo si può anche rappresentare come... e vi faccio vedere anche la formula. Allora, s di x con il trattino uguale a s fratto la radice di n meno 1, dove s sarà proprio la deviazione standard, mentre n la numerosità del campione. Molto spesso però il valore della media è più opportuno però indicarlo non solo con un valore, diciamo, preciso, bensì appunto con un intervallo di confidenza della media, la cui ampiezza dipenderà proprio dalla probabilità che tale intervallo ha di contenere la media m della popolazione presa in considerazione per questo studio. Infatti, l'intervallo di confidenza si indicherà in questo modo. x con il trattino meno k per sx con il trattino, quindi errore standard. Poi la stessa cosa però con il più, quindi x con il trattino più k per sx trattino, ovvero sempre l'errore standard. Ovviamente questo k saranno dei valori che dipenderanno dalla probabilità di attendibilità dell'intervallo stesso, ovvero in base alla probabilità, quindi se vi è una probabilità di 90%, di 50%, di 60%, ad ogni probabilità dovete associare un valore k che andrete poi a mettere appunto in questo intervallo di confidenza. Ulteriore cosa che possiamo aggiungere è proprio l'intervallo di confidenza però della percentuale. La frequenza relativa F con cui una caratteristica viene rilevata in un determinato campione è una stima corretta della percentuale P con cui tale caratteristica compare proprio nella popolazione in cui io ho estratto appunto il mio campione. La sua incertezza sarà valutata dall'errore standard, dove io posso scriverlo anche come la radice di F per 1 meno F tutto fratto n. Quindi anche in questo caso parlerò di errore standard. Anche per questo caso, come abbiamo fatto anche prima, è utile parlare di intervallo di confidenza. Infatti sarà proprio molto simile a quello di prima, ovvero lo possiamo scrivere come intervallo aperto, come prima, di F meno K per SF e poi F più K per SF, dove stesso discorso di prima, il K dipenderà dalla percentuale che voi state associando. Bene, quindi abbiamo visto questi altri piccoli elementi di statistica. Io spero che sia tutto chiaro. Se questo video vi è piaciuto, lasciate pure un bel like e poi ci vedremo domani con un altro argomento. Ciao!